Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video qua sulla farm della serie agricola e questo qua è un video registrato per la seconda volta perché la prima è venuto video perfetto, ci eravamo fatto il nuovo acquisto e il microfono era scollegato, praticamente c'è un cavetto c'è il cavo del microfono e c'è delle cuffie praticamente che va al pc e è diviso in due cavi e l'attacco si era sganciato quindi ok, l'ho staccato ieri sera perché mi sono alzato con le cuffie attaccate si è scollegato e quindi c'è questo problema comunque qua c'è il nostro Valtra, qua c'è la nostra John Deere e qua c'è il nostro John Deere che siamo nel nostro nuovo campo come vedete campi, campi si ammessi, ho fatto un sacco di soldi con le missioni abbiamo il 3 e il 20 e basta, però il 3 è ad erba quindi dovrei comprarmi un altro campo tipo questo, dai me lo compro tanto abbiamo un sacco di soldi, abbiamo 860.000 facendo tutte le trebbiature dei vari campi ne ho fatti veramente un sacco e do ancora un botto di mais e altre cose comunque i cavalli stanno pure crescendo bene e e e la mia idea che vi ho detto è allora vabbè qua ho piantato degli abeti ho comprato questo campo perché vicino alla segheria potete cioè un attimo andare a venderli volendo con il Valmet, cioè scusate con il Comazzoli possiamo vendere ne ho seminati i 20, un solo pallet, tutti qua tipo una, due e poi qua ci sarebbe la terza fila che ne comprende solo quattro uno, due, tre, quattro, quattro voglio dire e come vedete bene o male sono anche in linea senza GPS né nulla e ecco il campo 3 comprende questo pezzo e principalmente tutto sto campo qua principalmente volevo prendermi il 2 per i soldi poi vabbè sono andato ancora avanti off camera a tribiare, vendere, tribiare, vendere e mi sono comprato questo qua perché nell'altro c'era un bietolo e non avevo l'attrezzatura per raccogliere allora io pensavo di fare questa andiamo, dai oggi occupiamoci della gestione della farm della modellazione allora mi voglio fare voglio praticamente crearmi la farm qua soltanto che la faccio giù sul fondo quasi però anche qua sull'angolo non sarebbe male comunque qua volevo mettere dei cioè tipo fare una passata, mettere abetti fare intorno, cioè che costegnano la strada fino a qua tipo e mentre qua vorrei fare una strada che arriva fin giù e poi ci creiamo qua la nostra farm delle vacche anzi già che ci no vabbè lasciamo perdere, la mettiamo dopo allora col joystick devo regolarmi questo devo farmi un po' un piano se mi ricordo ancora come si fa no devo fare così no ok era una cosa di questo tipo che volevo fare ovviamente lì dove ci sono le piante non si può qui praticamente è soltanto spianato ehm già che ci siamo quanti soldi staremo spendendo porca vacca parecchi direi c'è una cosa di questo tipo che va fuori un po' poi dopo lì ci sistemiamo voglio un attimo ruotare per vedere un po' come siamo ok no cavoli e vabbè risistemiamoci così ehm ho fatto già video del genere però sull'altra mappa cioè sulla serie dei timelapse vabbè mi lasciamo perdere devo regolarmi il cosettino farlo più piccolo tra l'altro qua di fianco la tv che mi stavo guardando la MotoGP ecco questo qua per arrotondare un po' ok poi dopo ci occuperemo più avanti di queste finiture cioè ci penserò magari off camera voglio sistemarmi un attimo qua prima aspettate qua vado avanti così buono perfetto poi arrotondiamo non voglio ecco distruggere tutta l'erba perché poi dovrò falciare qua quindi non mi va proprio di rovinare tutto qua pure diciamo sistemiamo un po' e dovremmo essere a posto aspettate qua magari perfetto facciamo un po' una sorta di discesa anche se eh oddio non è il top del top infatti qua è è bello ripido non siamo un po' dai una cosa così ovviamente mi si è abbassato questo quindi devo ripassare tutto però l'importante è che sia piena la zona lì poi dopo ci gestiamo meglio voglio fare anche una zona un po' piana qua ovviamente così è un po' troppo grande ok e anche qua voglio fare una stradina costeggiata di abeti allora andiamo abbiamo speso un po' di soldi mi sa si eh no voglio fare l'altro come cavoli si faceva non mi ricordo più ah ok dobbiamo andare su cambiare cambio a variazione for con la c ah ecco come si faceva sta roba no però non mi interessa ora ecco praticamente da un sacco di tempo che mi chiedevo come mai su certe immagini c'era quello ecco perché vabbè non è l'ideale per spianare qua che cavoli c'è nulla eh devo fare ruoto visuale no paesaggio ok torniamo con la c tipo di terreno no terra terra no come si faceva cambiare punto di domanda ok ok facciamo il sottobosco diminuiamolo pure no è troppo scusate non mi piace banale gaietto pure non sarebbe male fangono terra facciamoci sta striscia di terreno poi magari lo coloreremo eh più avanti adesso è soltanto per vedere un po' e ci compriamo direttamente il recinto per le vacche a sto punto 300 mi sa vediamo l'ho comprato il campo sì quindi abbiamo già un campo questi soldi li possiamo usare ma sì dai 200 vacche cioè non aspettate è troppo grande mi sa no no esatto esageratamente grande dovremmo vabbè aspettate lo posso girare da questa così e dovrei no è troppo grande davvero costa anche tanto ci piazziamo questo qua e pensare che pensavo fosse già tanta zona giù a lavorare allora come era così no devo cambiare fatemi cambiare il colore terreno ok qua siamo a posto x era una roba di sto tipo 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 di sto tipo e vabbè andiamo ancora giù sarebbe bello poter mettere dei muri in modo da poter nascondere tutta sta roba perché vabbè volendo si può fare in un'altra maniera però non mi va di stargli a far tutto rocce per ora l'idea è quella di far tutta rocce però vedremo vedremo più avanti allora 100.000 euro come no cioè vuoi dirmi che io ho fatto tutta sta roba per nulla lì me la mette e qui no abbiamo fatto tutta sta roba per nulla davvero cioè guardate qui ce la mette no vabbè ah ho capito perché non ce la vuole mettere perché non è proprio un campo dovrei metterla tipo qua eh ma qui cosa che metto dai mi serve qualcosa tipo un pollaio nemmeno va bene abbiamo fatto una gran cavolata abbiamo spalmato tutto il terreno per nulla allora a sto punto io mi piazzo questa qua eh praticamente si vabbè facciamo una roba di sto tipo eh un po' più avanti eh no sapete non ce la lascio mettere perché il campo non è nostro eh praticamente qua è terreno pubblico credo vediamo terre no è nostro è nostrissima sta zona vabbè vediamo andiamo poi con quella piccola e me la metto qua tac eh ritorniamo sul menu scusate se continuo a schi cioè passare da una cosa all'altra mi sistemerò qua e qua mi ridurrò c'è vi pare sta cosa ah no ok riduce piano 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 stiamo riducendo almeno io volevo pure fare una stradina qua che saliva anzi no qua non riduciamo eh facciamolo così e poi ci sistemiamo sopra qua facciamo una roba di sto tipo ok si sta venendo un casino però dopo ci darò una sistemata prossima volta vedrete che figata mi starebbe un sacco una vasca liquami qua sotto ma per ora non possiamo avrete continuato a sentire un ticchettio e se caso era il mio timer scusatemi qua ok e qua ok e andiamo un po' in là riduciamo il nostro il nostro indicatore anzi quasi quasi io qua no vai fuori un pochettino bravo farei una cosa di sto tipo una sorta di scarpata non proprio così come adesso ma un po' più evidente cioè in modo da spianare proprio bene tutto poi qua pure non è se caso alziamo il campo vediamo 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 eh perché qua no mi scogge che c'è questa sorta di buco così però ok la farm ce l'abbiamo devo risistemarmi qua ancora in modo sempre da avere un po' tutto spianato ok si dai qui può andare adesso continuiamo con la nostra strada ovviamente non era questo il colore è vero esatto ah ecco così possiamo fare vabbè cambiamo colore prima di tutto perché sto qui non è questo qui è si esatto è proprio fango poi vabbè lo sistemeremo no dai sistemiamolo subito perché sta proprio male allora così no no vabbè facciamo una cosa di sto tipo eh sì un po' più piccola grazie si poteva fare anche arrotondato però vabbè finché poi una stradina poi come ho già detto più avanti la sistemeremo eh teoria qua è sotto bosco e non c'è nessuna pianta ah no devo venire a seminarle comunque qui adesso io mi farò tutto il contorno dai bisogna questa texture che mi piace tutto sommato anzi no qua lasciamo texture erbivora una texture d'erba perché alla fine si non è che andate a mettere altre texture qua vicino a al campetto ah no qua non è sistemato bene ok cioè più o meno più o meno meglio di prima e andiamo giù a provarla con il nostro trattore poi vi prometto che prossima volta sarà già tutto un po' cambiato la bella strada è da sistemare ancora però più o meno ci siamo qui potrei mettere un deposito per le attrezze per quello che c'è un po' più spazio e qua poi veniamo qui no devo ma no dai tutto sommato pensavo ci fosse giù tipo una scar un muro invece no tutto sommato non è male vediamo un po' com'è il passaggio con il trattore almeno si si sente un po' addosso anche qua no però è brutto qua è da fare o un magazzino perché fare un campo così no non mi piace per nulla fare una sorta di magazzino di stoccaggio per i nostri mezzi potrebbe essere una buona idea qua spianare ancora un po' di più comunque tutto sommato come farm sta venendo cioè come zona per le vacche sta venendo bene poi chissà se magari più avanti potremmo portarci qua altri animali tipo vabbè le pecore ovviamente però magari riportare sui cavalli e farci la farm proprio direttamente qua io ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto è stato un po' corto ma fa nulla vi invito come sempre a lasciare un bel like commentare con i video ma soprattutto iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto io vi saluto e vi ringrazio e noi ci vediamo ecco magari in questo periodo come ho detto non usciranno video ogni giorno infatti il video che dovevo uscire domenica l'ho caricato per lunedì e questo dovevo uscire lunedì quindi lo vedrete di mercoledì forse se riesco martedì e nulla ciao a tutti e al prossimo video